il preambolo del 2000 è qui, però fai quei preamboli che fai, poi c'è l'avvocato di preambolo, quale preambolo? Cositano News, evento Wending, l'ultimo scapolo d'oro di Sorrento, l'ultimo scapolo, l'ultimo amico, non c'è flash, nella pelombra, l'uomo che dirà sì Ciro, vai, playboy Ciro, Vincenzo, Antonio, Massimo da Venezia, Relay, l'uomo del Relay Sei pronto? Vai, l'avvocato dice che presenta la sera Tu presenti tu? Non si sa se dirà sì L'uomo dei mille volti, l'uomo dei mille misteri Uno, due e tre, vai! Dario Disa, vai Cicione Prego, è partito? Eh, ho già solo partito Buonasera ragazzi, buonasera ragazzi, Cositano News, Piazza Tasso Cicione, avvocato Disa, avvocato, Dario Disa Cioè, vieni che stai in tribunale, siamo a Piazza Tasso Siamo qui a Piazza Tasso per presentare un evento importante Quale? Domani si sposa uno degli scapoli d'ori più importanti di Sorrento Doro, il dottor Vincenzo Darmiento Doro, Vincenzo, Vincenzo e Bile Alla mia destra abbiamo il commedatore a Campora, nonché titolare del Relay E ma Campora come? Antonino Antonino, perfetto Una stella Michelin, un uomo che ha creato un'attività incredibile Che crea produttività per la regione Campania E niente, alla mia destra abbiamo Don Ciro Uno dei più grossi lati lover di Sorrento Inquadriamolo per le sue fanze Le ragazze che lo contattano Lui a Serena e a Chiappa Lui a Chiappa da per tutto Sicilia, Campania, Calabria, Roto, Milano Ecco il festeggiato, il dottor Vincenzo Darmiento Direi qua sera Direi qua sera Due lati lover Uno si sposa e uno rimane singolo Due lati lover Il matrimonio Per le ragazze in ascolto Per le ragazze in ascolto L'ingegnere libero Massimo Catapano Libero Libero, ma non comparto Libero in questo momento Fidanzato Però vabbè, comunque Catapano È sempre l'amberguano Vediamo a noi Vediamo a noi Vieni, tieni 30 secondi 30 secondi Domani Vincenzo si sposerà nella sua villa Dove? Una fantastica, uno scenario Villa dei Darmiento Villa Darmiento Spettacolare Piscina Champagno Ci sarà di tutto Una cosa spettacolare Un matrimonio unico Venga a mangiare la torta Telefonatemi E poi si dà che gli usa Per il piacere Di vedere in diretta Perché il cittadino Sarà invitato domani Di videoregistrare Il matrimonio del dottor Darmiento Da uno che dice Che parla della Juve No, non è Dice che la Juve Il pronoscio Qual è? Qual è il pronoscio? Il pronoscio dell'anno prossimo No, per il matrimonio Per il matrimonio Sì o no? Lo scopriete domani Lo scudetto lo vince in Napoli Sì o no? Lo scudetto lo vince in Napoli Lo scudetto lo vince in Napoli L'avvocato di Saggià L'ha detto in tempi Non sospetti Sì, grazie a Sarvi Ma vince domani dirai sì o no? Se potete saperlo Dovete venire domani A chiesa di Sant Antonino Alle ore 16 Tutti invitati Venitevi a fare un bagno di sudore In chiesa A fare un bagno di sudore Alle ore Sì a che ora 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 Come si chiama la sposa? Ornella Ornella La meravigliosa Ornella Ornella ha pensato bene Ha pensato bene Ha pensato bene Alla chiesa Ti sei dato